il terrorismo c'è stato a brescia e ha avuto due forme politiche il terrorismo rosso prevalentemente a brescia prima linea e poi c'era il terrorismo stragista quello fascista quello che ha poi determinato la strasi piazza loggia e ovviamente lì la discussione era era complessa anche tra i lavoratori perché si era di fronte comunque delle imprese che sfruttavano il lavoro anche seppur eravamo su una spinta di conquiste sui diritti dei lavoratori dalle 40 ore dal passaggio del 44 alle 40 ore oppure al diritto allo studio ne potremmo citare molti e comunque nel luogo di lavoro il tema principale era lo sfruttamento della tua attività noi per esempio eravamo un'impresa che non è mai riuscita a superare il cotimo individuale il cotimo individuale praticamente tanti pezzi allora che tu devi produrre avevi il tempista che ti controllava i movimenti del lavoro per da parte dell'impresa per rendere più efficace la tua attività e tu avevi il compito di ritagliarti delle pause possibili anche fisiologiche nel nel rapporto con con chi controllava il tuo lavoro e per cui dovevi essere intelligente rallentare i movimenti per come si dice conquistarti con i 20 minuti nella giornata per poter andare in bagno per poter mangiare il panino e il lavoratore era comunque sotto pressione c'era sospinto all'idea che il caporeparto era come si dice la gustino dell'impresa e pertanto quando ci furono i primi segnali del terrorismo in cui gambizzavano i capi i dirigenti delle imprese non sempre i lavoratori diciamo contrastavano l'idea contro il terrorismo c'era un po di acquiescenza in fondo diceva non si ammazzava nessuno si gambizzava chi ti sfruttava per cui era una discussione nei luoghi di lavoro anche complessa riuscimmo a sostenere l'idea di un sindacato che combatteva il terrorismo che non era l'arma del movimento sindacale quella come si suol dire di colpire le persone in misura fisica e brutale però certo trapassò nel movimento l'idea che il terrorismo per una fase poteva essere d'aiuto alle lotte alle lotte sindacali poi quando il terrorismo fece un salto di qualità e per cui dalla gambizzazione si arrivò ad ammazzare persone lì ovviamente è cambiato è cambiato schema giudizio e prevalso con forza un'idea di contrasto ad ogni forma di terrorismo di violenza nei luoghi lavoro e fuori nel territorio insomma e questa è come si dice e storia anche importante della della cgl il contrasto delle forme di terrorismo è sempre stato molto complesso perché nell'ambito del movimento sindacale in tutte e tre le organizzazioni sindacali cisgeli cisvil come si dice l'entrata dei nuovi delegati fortemente ideologizzati legati ad una matrice come si dice a volte comunista estrema ovviamente apriva delle contraddizioni significative nel gruppo dirigente della cgn tra chi sosteneva che era possibile come si dice tenere insieme anche la forma più estrema e chi come io pensavo bisognava determinare una cesura precisa nel rapporto con chi sosteneva un'idea di violenza anche se non la praticava però questo alla fine il sindacato e la cgl in modo particolare reagì in misura significativa determinò una cesura insomma poi ovviamente diciamo l'altro salto di qualità fu quando ammazzarono guido rossa a quel punto come si suol dire non c'era più spazio di interpretazione insomma e per cui la cgl fu una barriera contro contro il terrorismo in misura significativa insomma più di altre organizzazioni anche se devo dire che nella mia realtà non ci furono grandi diciamo iniziative di carattere terroristico insomma si diffusione i volantini sostegno alle brigate rosse qualche modo un atteggiamento diciamo né con lo stato né con le brigate rosse che nel tempo combattemmo insomma ma alla fine vinse l'idea di di un'azione democratica di contrasto allo sfruttamento del mondo del lavoro sul fronte del terrorismo nero non c'è mai stata una distinzione particolare eravamo tutti contro era anche la forma di terrorismo più subdola quella stragista quella nascosta quella in cui non si facevano vedere dove ovviamente in quel territorio come territori limitrofi come quello del veneto c'era una forte insediamento diciamo del terrorismo nero ma anche della politica del movimento sociale per cui erano territori dove c'erano insediamenti politici significativi a rappresentanza della della destra in più c'era l'estrema l'estrema destra che scivolò nel nello stragismo e lo si è visto negli anni solo la strage di piazza della loggia ma una serie di eventi all'interno del terrorismo nero oggi riconosciuti come forma stragista io penso che diversamente anche di piazza fontana dove come si sol dire si mise una bomba in una banca e diciamo l'attacco era sulla città la strage piazza fontana una strage che ha colpito direttamente il movimento operaio perché era una manifestazione antifascista unitaria di tutto il sindacato e si è colpito diciamo l'identità più significativa contro di loro che era il movimento operaio bresciano con una caratteristica in più cioè che brescia fu diciamo il movimento operaio che costruì la flm c'è il più unitario per cui il più avanzato dal punto di vista anche nei rapporti di forza proprio perché era riuscito ad avere una dimensione unitaria prima prima anche di milano e per cui si è teso a colpire un simbolo particolare in particolar modo c'è una classe operaia avanzata unitaria e preponderante visto che lì la maggioranza dell'attività di lavoro era era operaia per cui anche questo il senso anche della diversità della strage piazzaloggia rispetto rispetto anche ad altre cioè si è colpito un simbolo io ero in piazza devo dire che sono arrivato una decina di minuti dopo la bomba era appena scoppiata e ovviamente c'era gente spaventata persone che non sapevano dove andare c'era ancora fumo l'odore acre della carne bruciata dalla dalla bomba iniziarono i primi interventi diciamo di di assistenza di tutela per le persone scoprimmo dopo che anche l'attività di pulizia della piazza servì come si dice per togliere qualsiasi possibilità all'indagine di approfondire meglio i suoi lavori e si fu una giornata tragica tremenda insomma che è rimasta nella dentro di me come in tante migliaia di quelle persone che hanno vissuto il dramma l'atrocità di un di un atto così diciamo potente e nascosto non vedevi il nemico c'era e non lo vedevi si erano preparati precedentemente per cui con l'idea proprio di colpire è una piazza fatta da operai e che contrastava il fascismo per cui è stata una grande sfida drammatica che alla fine credo il movimento operai abbia vinto la reazione fu quella di presidiare due delle fabbriche nelle prossime da quel giorno fino alle settimane in avanti ognuno di noi aveva il compito di presidiare fare assemblee superare contrastare sia nel territorio proprio che nelle aree della provincia di brescia e fu anche una grande azione di diciamo di tenuta democratico di evitare che ci fosse una reazione similare a quella a quella ricevuta per cui in quel caso il movimento operaio il sindacato fu un soggetto partendo proprio dalla giornata della strage di governo della città e di governo democratico senza scivolare in intolleranze governando un processo e come si diceva facendo partecipare migliaia di lavoratori e di lavoratrici alle iniziative del sindacato democratiche e ovviamente ognuno nella propria impresa nella propria azienda presidiava quel territorio una sorta non dico di occupazione ma di garanzia democratica che fu governata dal movimento sindacale fino poi ad arrivare ai giorni del dei funerali anch'essi come si dice di grande tensione perché c'erano i gruppi extra parlamentari come si dice che si rivoltavano contro di noi chiamandoci social democratici e anche quello fu un momento di grande tensione di tensione con la politica perché la connessione tra la politica e lo stregismo la si sentiva subdorava per cui fu contestato il presidente della repubblica diciamo l'unico che in qualche modo governò la stessa fu luciano lama che tenne insieme il movimento sindacale in una visione democratica per cui avemmo un ruolo importante insomma da ricordare nella storia lociano lociano